Bene amici, lui è Moto Edge 30 ed è il telefono medio-alto di gamma 2022 più a fuoco finalmente un telefono che esce senza essere peggio dei telefoni dell'anno scorso insomma, mi piace anche perché è molto sottile, molto leggero, bel display, motorolate, software stock e prezzo giusto andiamo a scoprirlo nella recensione completa non è un best buy perché poi a fine maggio torna a 550 euro ma adesso a 399, sì Ed ecco il telefono con il suo Moto Display, non vi faccio l'unboxing andate a vedere l'esperienziale dove potrete capire nella giornata che ho passato con lui perché lo ritengo un ottimo telefono, ve lo linko qua in alto a destra comunque vi dico che c'è praticamente tutto, anche il caricabatterie è da 33 watt non ha la ricarica wireless, la batteria è da 20 watt ora, in 45 minuti è carico vi parlo subito dello spessore 6,79 mm, veramente sottile ma soprattutto il peso 155 grammi leggero, comodo da tenere in mano, ovvio non è piccolissimo ma guardate le cornici che comunque sono uguali lungo tutto il bordo e questo display da 6,5 pollici fa sì che veramente sia un piacere da tenere in mano è vero sporgono un pochino le campi posteriori, principali da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine poi grande angolare 50 megapixel, 118 gradi e poi l'inutile effetto macro wifi 6 e poi bluetooth 5.2 e poi qua sotto no, non c'è l'uscita video da USB ma c'è l'uscita video wireless con anche l'interfaccia desktop ready for Motorola è veramente un'ottima interfaccia desktop, andate a vederla nel video di Moto G100 se non sbaglio l'avevo approfondita, accensione e spegnimento e poi qua sopra i tasti del volume un pochino più in basso, comodi da raggiungere e poi qua il primo diritto parlanti perché l'audio è stereo, il carlino delle sim 2A non c'è l'espansione memoria, forse l'unica mancanza però c'è il doppio microfono lo sblocco e vi parlo proprio della batteria perché vi faccio vedere come si è comportato bene in questi giorni andiamo qua negli screenshot questa è la giornata super stress della giornata cold quindi viaggio a Firenze in treno, tanto titering, tanto tutto veramente ho usato tantissimo, sono comunque riuscito a tornare indietro 21 e 22 era con l'1% di batteria ma veramente è stata una giornata pazzesca invece questa è stata la mia classica giornata stress con 4 ore e 24 minuti di display un utilizzo del wifi e del 5G abbastanza, diciamo, equilibrato tra uno e l'altro e sono arrivato, comunque utilizzando tanto, per esempio 1 ora e 5 minuti di telefonate alle 23 e 17 con ancora il 18% di batteria residua ovviamente ci sono le ottimizzazioni per andare a far durare di più la batteria nel tempo se trovo il menu dedicato ve lo faccio vedere ecco qua, batteria, oltre alla batteria adattiva, proprio la carica ottimizzata e la cosa bella è che questo processore è lo Snapdragon 778 più 5G processo produttivo a 6 nanometri non ha picchi, non si comporta come Dr. Jack e il Mr. Hyde ma ha un consumo costante quindi mia giornata stress a sera 15-20% vi dicevo del display, bello 6,5 pollici è un AMOLED Full HD 144 Hz la velocità di refresh e devo dire che è un display che va bene in ogni situazione perché è buono l'angolo di visuale è buona la visualizzazione sotto luce del sole dove aumenta la potenza dell'illuminazione dei pixel e devo dire che anche alle basse luci non è di quei display che va a trascinare troppo un pochino lo fa se vado ad abbassare tanto 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 quando faccio così e quando c'è proprio poca poca luce o meglio il buio completo un po' si vede il trascinamento ma nulla di trascendentale comunque un buonissimo pannello e Android 12 per quanto riguarda il sistema operativo quello che mi piace sempre tantissimo dei Motorola è che sono software puliti Android stock e non abbiamo duplicazioni applicazioni le fotografie sono dentro l'applicazione foto non ci sono altre gallerie, altre cose l'unica personalizzazione è la Motorola quindi delle personalizzazioni sia per quanto riguarda caratteri, colori dei vari toggle la dimensione della griglia, dell'home page le gesture super super comode soprattutto quella per aprire velocemente la cam facendo così oppure attivare la torcia istantanea insomma ce ne sono veramente di comode e poi il moto display dove lo schermo interattivo permette di vedere le notifiche anche quando il telefono è bloccato tra l'altro si può rispondere in maniera rapida anche quando il telefono è bloccato insomma Motorola mi piacciono sempre veramente tanto quest'anno Motorola ha fatto una promessa due major update nella vita di questo telefono ma anche del 30 Pro tre anni di update con patch di sicurezza aggiornate ogni due mesi speriamo perché quello poi è un punto importante per gli utenti anche se il software Motorola è sempre oltre ad essere pulito molto molto affidabile nel tempo ma non anche nel tempo anche subito le notifiche arrivano si collega tranquillamente con il bluetooth smartwatch eccetera eccetera quindi nessun tipo di problema per come gira ovvero per le prestazioni devo dire che questo processore che non so perché sono pochi i telefoni che lo vanno ad adottare il 778 Plus 5G è veramente un ottimo processore perché fa girare tutto molto molto velocemente come avete visto ho sostituito Twitter con TikTok mi avete dato del del boomer quindi ho dovuto farlo scherzi a parte è un'applicazione che viene sicuramente più utilizzata di Twitter e qualcuno vorrebbe anche che io abbandonassi Facebook in realtà per quanto riguarda il livello dei commenti si potrebbe anche abbandonare ma mi serve per scrivere qualcosa e vi dico il feedback della vibrazione che è buono ma non precisissimo diciamo che non è zanzaroso qua devo dire che si rientra nella media comunque è un telefono veloce e mi raccomando scaricate offerte.club per rimanere aggiornati sulle offerte del web ma che qua offerte.club vedete come è fluido e veloce essendo l'interfaccia stock a destra abbiamo le notizie di Google e niente tirando giù qua abbiamo prima i toggle e poi le c'è prima le notifiche poi si aprono tutti i toggle insomma stock gaming real racing non è velocissimo non sono dichiarate le more adesso come è un UFS 2.1 2.2 non sono le 3.1 però nel complesso questo non rallenta il telefono ovvio quando apriamo real racing ci mette un pochino di più intorno ai 15 secondi da aprirsi ma mi piace molto l'interfaccia gioco si può andare a streamare direttamente su Twitch si possono andare ad aprire delle finestre di applicazioni dentro al gioco insomma ci sono dei begli strumenti della parte gaming e si può anche velocizzare un po' tutto il telefono e togliere le notifiche foto come vengono allora l'interfaccia è quella classica di Motorola grandangolare devo dire 118 gradi abbastanza grandangolare non distorce i lati magari un po' meno rispetto ai classici 120 gradi e la cam è una 1x quindi oltre 1x si va a interpolare poi le opzioni sono le classiche di Motorola e anche le possibilità qua nelle altre diciamo opzioni che si possono fare o scatti un po' artistici sono i classici mi piace la doppia ripresa con le due cam colore campione che si fa tutto in bianco e nero tranne un colore che si fa a campionare che diventa colorato nell'ambito della foto e qua sono i settaggi che si possono ottenere in modalità pro ma andiamo subito a quello che ci interessa ovvero il punta e scatta questo foto con la cam anteriore sul frecciarossa ovviamente nel ritardo classico di un frecciarossa ma perché Italo non fa così mai ritardo di frecciarossa sempre vabbè e poi l'RS3 mamma mia che bomba questa con la grandangolare questa con la cam normale questa ancora con la grandangolare questa con la cam anteriore ecco davanti la cam sicuramente meno performante della cam posteriore che devo dire a me è piaciuta bellissimi questi carboceramici con i freni a 6 pistoncini porca miseria quanto frena questa macchina video qua ha un passaggio mi sembra spero si stavo aspettando la macchina forse passerà adesso passerà speriamo che passi video buon medio di gamma anche nei video abbastanza stabilizzati ovviamente massimo 4k e devo dire buono il fuoco e anche l'effetto bocchetto guardate anche qua vedete come sono a fuoco io con la faccia mentre dietro lo sfondo sarà un po' bocchettato e poi quando mi sono spostato subito metto a fuoco il posteriore per quanto riguarda le foto con poca luce ve le faccio subito vedere eccole qua anche qua direi abbastanza buona nella media alta dei medi di gamma scusate il gioco di parole non è un top camera non è un camera ma comunque le foto per la quotidianità vanno bene per il 90% delle persone qua sono i vostri bigliettini mamma mia quanto vi voglio bene quando mi lasciate le vostre testimonianze qua dietro la targhetta ma ditemi un po' voi se vi avessero consegnato una Lamborghini pagata con il sudore con la targa che finisce in WC cioè io avrei denunciato il furto delle targa e mi sarei fatta cambiare ma non si può una lambo targata WC e poi il compleno di Chiara con una buonissima torta di Ernest Knam bravo Knam comunque riassumendo foto e video da buon medio di gamma invece molto bene l'audio cavolo mi stavo dimenticando no attenzione attenzione meno male che mi stavo dimenticando della telefonata perché in Motorola comunque le parti telefoniche sono sempre molto buoni anche questo non non fa di meno cioè si sente molto bene sentite il volume di veloce è molto alto si riesce a chiamare anche a media velocità ma soprattutto i microfoni prendono bene e poi si può registrare la chiamata il software cioè il software il dialer è quello stock quindi vi avvisa dello spam e comunque nulla da dire sulla chiamata se non funziona molto bene anche la capsula auricolare e i sensori di prossimità funzionano bene e hanno proprio un bel un bel audio ma torniamo a Gigi Doug con bla 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 anche qua sia la stereofonicità non ci sono canali destro e sinistro che prevalgono ovvio non ci sono grandi bassi però devo dire che è buono ecco la perfezione l'avrebbe raggiunta se avessi avuto il jack per le cuffie che ahimè come vedete non c'è conclusioni prezzo di lancio 399 euro il miglior medio di gamma presentato quest'anno probabilmente il telefono che consiglierei per quel mix di prestazioni di equilibrio generale batteria super affidabile veloce software senza duplicazione o pesantimenti vari ovvio non c'è un ecosistema ma l'ecosistema ce lo si può costruire comprando altri diciamo pezzi di qualsiasi brand e installando le applicazioni alla fine e che non sono auto cioè non sono ricariche caricate relativamente nel telefono quindi questo lo rende molto leggero e veloce e poi ottime come al solito le motorolate poi leggero e maneggevole questa è una cosa che mi piace veramente tanto 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 insomma si ve lo consiglio alla grande ma fino alla fine di maggio perché poi arriva a 550 euro e rimane comunque un telefono che va molto bene ma ovviamente a livello di rapporto qualità prezzo diventa meno interessante un saluto da andrea galeazzi punto com grazie a tutti grazie a tutti